Come va quello stalking? Non bene, è che non riesco a inquadrarlo. Tutto quello che fa gli fa schifo. Ha il profilo Instagram di un bimbo minchia. I suoi followers sono una manica di imbecilli che fingono di essere suoi amici. Fa canottaggio come il padre, ingegneria navale come il nonno, e mangia carboidrati. Ci manca solo che gli piace il karaoke. Noia ne abbiamo. Se ti annoio così tanto, perché mi segui dappertutto? Quindi mi hai notata? Che vuoi? Una cena! Che? Beh, mi hai chiesto tu cosa voglio. Una cena. E poi se non scatta nulla, giuro che ti lascio in pace. Andata. E per ogni evenianza ci scambiamo i numeri? No. Ma che stronzo! Un appuntamento con Arturo Selva! No! 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 No!